Anche quest'anno si svolgerà all'Aquila la Notte dei Ricercatori. L'evento scientifico si terrà il 27 novembre e verrà adeguato alle disposizioni anti-Covid. Alberto Orsini. Bisogna scordarsi i bagni di folla, ma comunque ci sarà, non più a fine settembre, ma il 27 novembre, la settima Notte Europea dei Ricercatori dell'Aquila, un evento che di anno in anno ha portato anche 30.000 persone ad affollare il centro storico ricostruito del capoluogo, chiudendo l'estate degli eventi dopo i cantieri dell'immaginario, la perdonanza e il Festival Jazz. Il progetto ha vinto un bando europeo da 50.000 euro per l'Aquila e altri fondi pubblici Restart verranno erogati dal comune capoluogo. Se di norma erano centinaia i diversi eventi scientifici tra vie, piazze e palazzi del cuore della città, nel 2020 le cose saranno un po' diverse, come confermano la responsabile delle relazioni esterne dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Roberto Antolini, e il rettore del Gran Sasso Science Institute, Eugenio Coccia. L'idea è di avere comunque un evento di tipo ibrido, quindi in parte in presenza e in parte di tipo online, però tutto questo sarà fatto in modo tale da essere comunque appassionante per chi ci seguirà. Stiamo pensando a fare una modalità mista con sicuramente una parte importante che si svolgerà dal punto di vista delle matiche, YouTube, lezioni, eventi, eccetera. Lo stiamo programmando in questi momenti. L'Università Aquilana invece resta legata alla tradizione di fine settembre per Street Science, costola dell'evento, come spiega il rettore Edoardo Alesse. Non potrà sicuramente essere effettuato nella sua pienezza, diciamo, però noi vorremmo comunque lasciare la traccia di un evento, magari all'aperto, per, come dire, mantenere la cadenza annuale di questa. Dopodiché vi sarà a fine novembre l'evento Sharper, al quale sicuramente daremo il nostro contributo. Grazie. 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 Grazie.